Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Voglio un attimo fare delle pentolizzazioni sul video che ho lanciato ieri e che ha destato enormi, enormi commenti. E ieri mi è stato detto, Marco, perché sei così agitato? Marco, perché stai mettendo così paura? La situazione è davvero così grave sul mercato delle criptovalute? Ragazzi, fermatevi, assolutamente, io non sono per niente agitato, sono invece estremamente tranquillo. A volte il mio entusiasmo, ma questo è il mio modo di parlare, il mio modo di fare, il mio entusiasmo mi porta a farmi prendere un po' la mano quando racconto le cose, soprattutto quando parlo di cose in cui credo fermamente e può effettivamente, mi rendo conto, essere percepito come agitazione, paura. Ma non era mia intenzione, mai stato così lontano dall'essere preoccupato per quello che sta succedendo sul mercato delle criptovalute. Qual era il messaggio del video di ieri, ragazzi? Il messaggio del video di ieri è un po' sempre lo stesso messaggio che mando, che cerco di mandare per sensibilizzare alcune persone che stanno su questo mercato e non sanno bene perché stanno su questo mercato. Che stanno su questo mercato e pensano che questo mercato è il mercato che li farà arricchire velocemente. Che stanno su questo mercato e pensano che basta buttare soldi dentro da qualche parte, metterli su qualche criptovaluta, magari sconosciuta, magari che costa molto poco, così in questo modo si guadagna ancora di più. Basta far questo per diventare ricchi in poco tempo. Bene, è a queste persone che mi rivolgo, perché sono queste le persone poi che quando succedono queste cose hanno paura, si agitano e non sanno bene cosa fare, vanno nel panico e cominciano a vendere. Tutto l'effetto domino di cui vi parlo quando vi dico appunto che il mondo delle criptovalute a volte si muove a effetto domino, soprattutto quando succede qualcosa, quando c'è qualche notizio, quando Bitcoin, che è il re delle criptovalute, comincia a scendere. Mi riferisco proprio a questo effetto qua. Cioè, le persone che stanno sul mercato e non sanno bene cosa fare, non sanno bene che cosa sta succedendo, non sanno bene come spiegarsi quello che sta succedendo, prendono e chiudono tutte quante le posizioni. Quindi, fatemi dire di nuovo, io sono estremamente tranquillo. Quello che ho visto ieri sul mercato, che abbiamo visto ieri in questi giorni sul mercato, per me che sto sul mercato da svariati anni non è per niente preoccupante, è qualcosa che è già accaduto e è accaduto tra l'altro in maniera anche più profonda, più importante ed è qualcosa che riaccadrà di nuovo. Su questo mercato, altamente volatile, altamente rischioso, se non siete abituati a far fronte a questi momenti, è meglio che non ci state e soprattutto se non sapete cosa sta succedendo e perché sta succedendo questo, Ebbene, su questo mercato non starci, non voglio mettere paura a nessuno, l'unica cosa che voglio trasmettere qua ragazzi è una ed una sola, conoscenza, dovete avere conoscenza del mercato su cui state mettendo i vostri soldi, su cui state investendo, non pensate che non serve aver conoscenza, basta metterci dentro i soldi per guadagnare, non è così, questo vi sto dicendo, non è così. Oggi Bitcoin sta a 8400 dollari circa, sta, se andare a vedervi i miei video di analisi sulla price action di Bitcoin, andrete a vedere che sta proprio dentro al secondo rettangolo che avevo segnato, può continuare a scendere? Certo che può continuare a scendere, può fermarsi? Certo che può fermarsi, ma non è questo l'importante per fare le vostre valutazioni e decisioni, L'importante qua è capire qual è la strategia per la quale siete entrati sul mercato, qual è il vostro profilo di rischio, sono queste le domande che nel video di ieri cercavo di trasmettervi e non paura, angoscia o me la sto facendo sotto, ma me la sto facendo sotto per quale motivo? Perché Bitcoin è sceso a 8300 dollari? Io tra l'altro ho acquistato Bitcoin quando stava ad altri prezzi, quindi vi assicuro sono tranquillissimo e lasciatemi dire un'altra cosa ragazzi, questo mi rivolgo agli YouTuber, Io sono, non ve la prendete però, non cancello mai i vostri messaggi, usate il mio canale per farvi pubblicità, mi va benissimo, mettete i commenti sotto ai miei video, è una tecnica molto becera per farsi pubblicità al proprio canale, quindi andate sui canali più grandi per farvi pubblicità, va bene, lascio i vostri commenti, siamo una community, va benissimo, non sono geloso, io non sto qui per diventare il, non so, qualcosa o qualcuno, Perciò lascio i vostri commenti, ok, però, attenzione ad una cosa, non lasciatemi dei commenti in cui mi dite che cosa dovrei dire, come dovrei comportarmi sul mio canale, sul mio canale decido io cosa dire, come dirlo e come comportarmi, Del resto non vengo sul vostro canale a dirvi che cosa avete detto, come avreste dovuto dirlo o di darvi una calmata perché siete preoccupati, quindi, ok, ve lo volevo dire, perché non voglio togliere i commenti di nessuno, però, attenzione quando scrivete commenti di un certo tipo. Detto questo ragazzi, torniamo invece a noi, la situazione, la situazione continua a scendere, Mongox sicuramente è stato un catalizzatore come lo è stato probabilmente anche a Binance, Ma ci sono anche notizie estremamente positive sul mercato delle criptovalute, dell'adozione delle criptovalute, hanno parlato di Starbucks che sta creando la propria criptovaluta per i pagamenti con valute digitali, Hanno parlato del sito di e-commerce Rakuten, mi pare si chiami, scusate la pronuncia o se ho sbagliato qualche parola, il sito di e-commerce più grande in Giappone che accetta criptovalute come pagamento, Insomma, c'è un gran movimento, Amazon con il progetto Twitch, Amazon ha acquisito Twitch e Twitch sta uscendo con la propria criptovaluta, insomma c'è grosso fermento dal punto di vista dell'adozione, senza parlare di light pay, eccetera, Quindi dal punto di vista di adozione abbiamo notizie positive, quella che stiamo attraversando adesso sul mercato è manipolazione spinta, manipolazione, Volevamo i grandi sul mercato, volevamo la liquidità sul mercato, bene, avere liquidità sul mercato vuol dire confrontarsi con queste situazioni e con questi scenari di mercato, Quindi non sto facendo FAD, non sto mettendo paura, non vi sto trasmettendo angoscia, Le uniche cose che voglio veramente trasmettere sono, ragazzi studiate, fate le vostre ricerche, fate investimenti consapevoli, Non investite soldi, non mettete soldi da qualche parte perché ve l'ha detto qualcuno su YouTube, O perché lo avete sentito dal cugino, dello zio, della vostra ragazza, del vostro migliore amico, No ragazzi non funziona così i soldi, i vostri risparmi non dovete investirli se non sapete esattamente perché lo state facendo, Soprattutto perché lo state facendo in quel momento, questa è la cosa più, è la domanda più grande che vi dovete fare, Ma perché sto entrando sul mercato, su questo mercato in questo momento? Quali sono, perché non può essere, perché ve l'ha detto qualcun altro, è la cosa più stupida che potete fare, No, ve ne rendete conto perché qualcun altro vi ha detto, fatelo, prendetelo, fate, no, ma perché lo state facendo? Fatevi questa domanda, questa domanda e la risposta a questa domanda vi permette in situazioni difficili come quelle di adesso, Perché questa è una situazione, per molti di voi immagino difficile perché magari non ci siete abituati, perché non conoscete bene il mercato, Quindi è una situazione che dovete affrontare, sarà più facile affrontarla, sarà più facile, sarete in grado di affrontarla in maniera più, Meno emotiva, meno impauriti, perché avete una strategia, perché sapete quello che avete fatto e quando lo avete fatto, Quindi ragazzi, cavolo mi lacrima gli occhi, vi giuro non mi sto commuovendo ma c'è un po' di vento, Oggi è una giornata magnifica, quando c'è un pizzico di sole Amsterdam diventa stupenda, Quindi, di nuovo, torniamo a noi, vediamo, lo sapete che cosa, voi dite, Marco ma ieri perché eri così angosciato e impaurito eccetera, Non era affatto tutto questo, invece lo sapete che sono estremamente, il mercato delle criptovalute mi fa sentire estremamente vivo, Perché è un mercato in cui succede ogni giorno qualcosa, ogni giorno c'è una nuova notizia, ogni giorno c'è un nuovo aspetto fondamentale, Ogni giorno c'è una nuova tecnologia, ogni giorno c'è, insomma, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, Ogni giorno succede un grande pump, il giorno dopo un grande dump, insomma non ci si annoia mai, Ecco che cosa mi piace e mi entusiasma di questo mondo, oltre ad essere un mondo tecnologico, La tecnologia, lo sapete, è il mio pane quotidiano, quindi abbracciate queste cose, abbracciate il cambiamento, l'evoluzione, Perché nell'evoluzione necessariamente ci saranno momenti di enorme difficoltà, Le cose che facciamo oggi, le coin che usiamo oggi, i progetti che oggi pensiamo possano essere i progetti del futuro, Magari tra qualche mese ci accorgiamo che non saranno più così grandi, progetti così grandi, Perché nel frattempo magari ne saranno usciti altri, Stavo pensando anche ad una cosa in realtà, Proprio perché i momenti, i scenari come questi, Bitcoin che è un po' il re delle criptovalute, Si porta dietro tutto quanto il mercato, che poveraccio paga il conto di Bitcoin, Di quanto Bitcoin è importante sul mercato, Stavo pensando che potrebbe essere interessante cominciare a valutare, Ma non so chi può farlo essendo tutto quanto decentralizzato, Potrebbe essere interessante valutare di far uscire in qualche modo dal mercato delle criptovalute Bitcoin, In modo tale da non dover affrontare questi momenti, Oggi il mercato delle altcoin sta scendendo ragazzi perché sta scendendo Bitcoin, Se c'è paura su Bitcoin, che è l'unico piede al tavolo, Che tiene in piedi il tavolo del mercato delle criptovalute, Ebbene se lui vacilla, vacilla tutto, E quindi perché non tinarlo fuori? Perché non renderlo totalmente decorrelato al mercato? Lo so non è facile, ci stavo riflettendo così in queste ultime ore, E fatemi sapere che cosa ne pensate voi, lasciatemi qua un commento ragazzi, Noi ci vediamo prestissimo, vediamo che cosa succederà nel pomeriggio sul mercato, Non solo su quello di Bitcoin ma anche sul mercato delle altcoin, E cercherò come al solito di darvi in diretta informazioni, Grazie mille per l'attenzione ragazzi, E un grazie anche al mercato delle criptovalute che ci fa rimanere vivi, Ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao! Ciao!